Cerimonia di consegna questa mattina a Riva del Garda, presso la concessionaria Honda, di quattro nuove moto assegnate dai comuni alla polizia locale. Si tratta di due moto di grossa cilindrata e due scooter per il traffico urbano. Vediamo l'intervista. Comandante, quattro nuovi mezzi alla polizia locale, le moto sono state sostituite, sono state quasi una scelta obbligata? Sì, ormai erano obsolete e il tempo passa anche per i mezzi. Le moto sono l'unico strumento che abbiamo efficace, soprattutto in questi periodi, per poter raggiungere i luoghi dove si formano tappi o colonne ed era quello che ci serviva. Abbiamo preso due moto per le pattuglie e due ciclomotori per poter far spostare in tempi brevi anche i vigili di quartiere e di zona. Il costo totale è stato 38.421 e abbiamo optato per comprare le cose nell'Alto Garda, quindi abbiamo trovato il fornitore, ovviamente sempre entro il mercato elettronico, però siamo riusciti a farlo all'interno del nostro comprensorio. Polizia locale nella nuova sede, ormai vi siete assestati, è un lavoro calibrato, siete ormai a regime? Manca ancora personale, però sì, stiamo cominciando a funzionare al meglio per quello che è il nostro servizio, per la qualità delle prestazioni. Le moto acquistate sono Honda acquistate da Sembenini, quali sono le caratteristiche tecniche di questi mezzi? Buongiorno, le moto sono delle Honda Africa Twin, 1000 di cilindrata, ABS di serie, controllo di trazione, persone con cambio normale, hanno scelto i vigili perché sono più pratiche per loro. Le abbiamo allestite con le sirene e i lampeggianti obbligatori di legge, hanno montato le borse laterali comode per metterci dentro tutte le loro documentazioni, sono moto che fanno 100 cavalli, quindi possono essere utili anche per fare interventi in montagna oppure anche su lunghe tratte. Due di questi mezzi e poi ci sono anche due scooter. Gli scooter sono stati scelti gli SH 125, che è lo scooter più in voga in questo momento, ABS di serie, Euro 4, start and stop, quindi è uno scooter super ecologico, 50 km con un litro, silenziosissimo, non inquina, molto sicuro. Anche quello è stato allestito con le sirene, i lampeggianti di legge e anche quello con parabrezza e bauletto per poterlo usare tutto l'anno perché questo sarà sicuramente utilizzato essendo un 125 da chiunque abbia la patente auto, anche quindi può usare le vicilesse piuttosto che i colleghi senza patente moto.